Quattro imprese agricole su dieci in Abruzzo sono guidate da donne e da due giorni anche la Coldiretti, precisamente Donne Impresa di Coldiretti, ha al suo comando una donna, Cecilia Di Primio, che è giovanissima, inizia questa nuova avventura, con quali progetti? Coldiretti, donne, sta spingendo molto nella formazione dei giovani, soprattutto dal punto di vista didattico, con l'educazione alimentare nelle scuole. Il progetto è molto ampio, guidato soprattutto in tutta Italia e anche a livello delle scuole a Chieti. Un altro progetto che stiamo seguendo è quello delle fattorie didattiche e quindi nella formazione di persone sempre più formate, sempre più educate, nel formare nuove generazioni. Perché è necessario riprendere i discorsi che i nostri padri e i nostri nonni ci hanno insegnato e che adesso si stanno un po' perdendo. Ed è per questo che Coldiretti si sta impegnando nella formazione dei nuovi giovani. 28 anni, laureata in scienze agrarie con specializzazione in medicina delle piante, Cecilia Di Primio ha vinto l'Oscar Green Abruzzo nel 2020 con un progetto sulla micropropagazione della canna comune. Per lei l'innovazione è il core business dell'azienda familiare. Io ho sviluppato una piccola azienda che produce menta e in più collaboro con l'azienda di famiglia, insieme a mia sorella, e produciamo piante da frutto, è un vivaio di piante da frutto. Sono due belle realtà che vanno gestite e seguite e sono molto contenta di essere una donna e di far parte del settore agricoltura e di essere la portavoce di una realtà che esiste e che può esistere.